Nel Vangelo di oggi preso da Giovanni al capitolo primo dal versetto 45 e seguenti leggiamo ecco un israelita in cui non c'è falsità. Rabbi tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Oggi è la memoria liturgica dell'apostolo San Bartolomeo che nel Vangelo è chiamato Natanaele. Filippo, amico di Natanaele, gli parla di Gesù e lo invita a incontrarlo ma Natanaele avendo appreso che Gesù viene da Nazareth è immediato e diretto nel rispondergli ma come da Nazareth può venire fuori qualcosa di buono? C'è l'insistenza di Filippo, vieni e vedi. Gesù quando vede Natanaele che gli si avvicina gli dice ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele resta sorpreso, Gesù gli fa capire che è un uomo giusto, semplice, Gesù vede cosa c'è nel suo cuore. L'incontro con Gesù lo aiuta a capire che il progetto di Dio non sempre come la gente immagina o desidera che sia. Lui riconosce il suo inganno, cambia idea, accetta Gesù come Messia e confessa maestro tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Bella la mediazione di Filippo che conduce a Gesù Natanaele. Ci fa capire come anche noi siamo chiamati a portare a lui tanti nostri amici. Bello l'incontro avvenuto sotto l'albero di Fico che cambia la vita di Natanaele che diventerà apostolo e per il suo signore si farà scorticare vivo perché chi è fedele sino alla fine vedrà il regno aperto e gli angeli salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Sperimenterà che Gesù è il nuovo legame tra Dio e noi e lui Gesù il portatore della vita e della gioia. Natanaele Bartolomeo l'ha seguito e ha visto il regno dei cieli aperto. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.